Grazie Giorgio per la tua introduzione, grazie per l'invito a itinerari previdenziali e grazie anche per accomodare la mia agenda che mi vede in auto in procinto di spostarmi. Vi racconto un'esperienza che secondo me ben rappresenta l'introduzione di Giorgio, ovvero la modalità con cui fondazioni di origine bancaria intervengono mediante investimenti perseguendo anche le proprie finalità istituzionali e l'ambito nel quale vi descrivo un'esperienza della fondazione di Forlì è quella nel campo dello student housing, degli studentati universitari, esperienza che è in questo momento in corso. L'Università di Bologna ha avviato circa 30 anni fa un programma di multicampus che interessa le principali città della Romagna. Per multicampus non intende semplicemente un decentramento di qualche corso, la creazione di qualche succursale, ma l'organizzazione dei programmi formativi in modo strutturato, in modo da svolgersi su più campus che sono nelle principali città della Romagna, dicevo, Forlì, Cesena, Ravenna, ma anche Faenza, Imola, Lugo, Rimini, ognuna delle quali ha dato vita ad un campus vero e proprio con le proprie caratterizzazioni anche in termini didattici. Tra queste campus della Romagna il più grande è quello della città di Forlì, il campus di Forlì conta infatti circa 7000 studenti e i corsi di laurea che lo caratterizzano in particolare e che non sono reperibili altrove sono l'economia degli enti del terzo settore, piuttosto che le scienze politiche per le relazioni internazionali, il dipartimento di interpretazione e traduzione e fra poco anche con il sostegno della Fondazione, oltre all'ingegneria aerospaziale attiveremo un corso di laurea in ingegneria nautica e navale. Di questi 7000 studenti circa l'85% risiede fuori dalla provincia di Forlì, Cesena, quindi stiamo parlando di 5-6000 persone che al di là di quelle territorialmente più vicine possono avere necessità di un alloggio. Abbiamo come fondazione censito nella città di Forlì circa 600 posti letto formali, ovvero disponibili presso strutture di pensionati gestiti dall'Ateneo o privati, piuttosto che tutta una rete di posti appartamento che sono convenzionati attraverso un ente pubblico di sostegno all'insediamento universitario. Sicuramente questi 600 posti sono molto inferiori alla realtà, è di fatti molto difficile censire gli appartamenti affittati da privati, piuttosto che altre soluzioni che magari scivolano nell'economia sommersa, ma di fatto un bisogno di posti letto per gli studenti esiste ed è ben rilevato e rilevabile dalla presenza puntuale di liste d'attesa agli accessi sia ai pensionati che ai posti di appartamento convenzionati. Chi ha a livello nazionale ben formulato una risposta a questo bisogno di residenzialità universitaria è Cassa Depositi e Prestiti che attraverso il FNAS, Fondo Nazionale Abitare Sostenibile, ha indirizzato perfettamente questo bisogno del Paese e lo ha fatto su più livelli, ovvero non soltanto nei luoghi dove questo bisogno è ovvio ed evidente come le grandi città universitarie, facile pensare a Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna, Padova, quelle in cui abbiamo visto anche in televisione gli studenti con le tende davanti all'Ateneo, ma ha indirizzato il FNAS anche città e università tier 2, quindi di dimensioni inferiori come appunto la cittadina di Forlì perché il bisogno esiste e quindi conosciuta questa opportunità per la fondazione di Forlì, la scelta di sottoscrivere questo investimento e siamo ancora alle fasi definitorie per cui c'è ancora un sacco di lavoro da fare, è stato comunque una decisione più che naturale, esiste un bisogno, la fondazione investe tanto sull'Ateneo, ha un'esperienza positiva con la SGR con cui il fondo è stato attivato e con la quale ha già realizzato iniziative di social housing in due casi, nell'asset allocation c'è spazio per crescere con un investimento sul settore immobiliare, il business case presentato dal fondo ha un IRR a vita intera sicuramente interessante, dà la possibilità di riqualificare degli immobili nel centro storico, quindi dando un ulteriore contributo allo sviluppo economico del centro della città di Forlì, crea effettivamente impatto e ricaduta concreta e quindi è venuta assolutamente naturale questa decisione di investimento, decisione che è stata fatta, presa dalla fondazione di Forlì utilizzando il patrimonio anziché le erogazioni, so che in alcuni casi altre fondazioni forse più grandi della nostra hanno utilizzato il reddito per costruire questi investimenti, ma un investimento di 5 milioni come quello che abbiamo sottoscritto a fronte di una fondazione, quella di Forlì, che eroga dai 10 agli 11 milioni all'anno, sarebbe stato eccessivamente significativo, anche se fosse stato fatto col conto economico a livello pluriannale, per cui sia con il consenso di commissioni investimenti, advisor e di tutti gli organi si è deciso di procedere a questo investimento, ripeto, utilizzando il patrimonio. Grazie. Siamo in fase implementativa e non vedo l'ora di potervi raccontare come questo sarà realizzato. Vi ringrazio. Grazie Andrea, anche noi siamo ansiosi di sapere perché il FNAS e qui voglio sottolineare una cosa, che le fondazioni non solo investono grazie agli strumenti messi a disposizione dal CDP, parlo, diciamo cito ancora prima il Fondo Investimenti per l'Abitare, che è lo storico investimento in housing sociale, ma con il FNAS ci si dedica a maniera ancora più mirata allo student housing e poi al similar housing. Ecco, voglio rappresentare che questi due fondi nascono sul preciso impulso delle fondazioni di linea bancaria e azioni in principi in una pura logica e chiara, evidente logica di engagement, che credo sia ancora prima che l'investimento sia davvero, come dire, l'intervento più importante per la diffusione di investimenti a impatto, come quello che ci ha raccontato Andrea Severi, che sono diffusi su tutto il territorio nazionale. Grazie Andrea.